Il derby del Valdarno di Coppa tra Montevarchi e San Giovannese coincide con la partita più attesa dai tifosi. È vero, vale solo per il primo turno della manifestazione e si gioca nell'ultima domenica di agosto, ma la sana rivalità calcistica tra i club delle due città principali del Fondovalle la rende già un piccolo esame di maturità. Al confronto numero 96 della storia delle due società, l'Aquila arriva con un organico rinnovato rispetto alla passata stagione, anche se è rimasto un manipolo collaudato di giocatori nei vari reparti, in grado di favorire l'inserimento dei nuovi e dei tanti giovani. I Rosso-Blu hanno inoltre cambiato la guida tecnica e con l'avvento di Simone Venturi modificato il modulo, prediligendo il 3-5-2 anziché il 4-3-3 o il 4-3-1-2 cari al suo predecessore Rigucci. Reduce da una serie positiva di amichevoli, gli Aquilotti si apprestano alla partita speciale di domenica con fiducia e un pizzico di curiosità. Il derby sarà diretto da Bertini della sezione Aia di Lucca, coagliuvato da Castro di Livorno e Giugioli di Grosseto. Tra i padroni di casa sarà assente l'ex Vieri Regoli, squalificato, il che potrebbe implicare o l'inserimento di Adami o dello stesso di Arrasuba, senza escludere l'ipotesi di spostare al fianco di Essussi un centrocampista a vocazione offensiva. Occhio anche alle quote al 2000 obbligatorio. Nel Montevarchi il prescelto dovrebbe essere il 2001 Francesco Amatucci, talento del vivaio e che può ricoprire diversi ruoli nel pacchetto mediano. Una possibile formazione dei Rosso-Blu davanti a Pellegrini, il trio ACI-Salvadori-Visibelli, corsie esterne affidate a Lischi e Amatucci, Donatini, Mannella oppure Masini e Biagi a completare il centrocampo, Adami o Di Arrasuba accanto ad Adrane e Essussi in attacco.